Un applauso a Papa Bergoglio, Laura Boldrini e Roberto Saviano. Invitiamo la Procura della Repubblica di Milano a mettere sotto processo questi tre personaggi, insieme a tanti altri ovviamente, per concorso in omicidio. Ecco cosa è accaduto ieri a Milano. Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'accaduto. Secondo quanto riferiscono le agenzie, i fatti risalirebbero alle ore 18.30 di sabato 19 dicembre. La vittima, un medico originario di Benevento, è stata aggredita da due nordafricani per strada, in prossimità della stazione centrale di Milano, evidentemente nel corso di una rapina. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero notato l'uomo agonizzante sull'asfalto. Ma nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato pressoché Evano, sarebbe morto prima del trasporto in ospedale. Sul corpo, all'altezza della gola, presentava una ferita profonda da arma da taglio, la stessa che presumibilmente gli è stata letale. Accanto al cadavere, i carabinieri avrebbero trovato un coltello da cucina insanguinato. Le indagini del caso sono affidate ai militari dell'arma. Testimoni riferiscono di avere visto due nordafricani in fuga subito dopo il fatto. A questo punto, ormai di non ritorno, proponiamo di portare tutti gli immigranti nella città del Vaticano. E' un valore, fra virgolette, nazionale. La mafia è nostra, ma è in Italia. E' nostra. Tutti abbiamo la possibilità di essere delinquenti. I migranti sono coloro che ci portano ricchezze, sempre.